Il 30 marzo prossimo saremo tutti insieme alla manifestazione organizzata dai comitati fiorentini e toscani contro la realizzazione del nuovo mega aeroporto di Firenze. Lo scrivono in una nota numerose sigle della sinistra, tra cui PRC, possibile sinistra italiana, potere al popolo, che si oppongono alla realizzazione della nuova pista dell'aeroporto di Firenze. Siamo ben consapevoli, si legge nel comunicato, di essere su questa grande opera di fronte alla più totale mancanza di interesse collettivo. Eppure i favorevoli sono andati avanti e tutti uniti, 5 Stelle, a cominciare dal ministro Toninelli, PD in molte delle sue articolazioni, Destre Varie e il presidente Rossi all'indomani della conferenza dei servizi. Una buona parte della politica continuano, fa quindi finta di essere alternativa, ma quando c'è da schierarsi per il privato, potente, di turno, non ha dubbi e si dimostra condiscendente e prona. Proprio perché è ampio il fronte dei favorevoli, anche con clamorosi schiaffi alle molte, molti che hanno creduto ad una parte di loro quando sostenevano le ragioni di questo no, che è necessario un forte impegno, sostengono i promotori della manifestazione, di tutte e tutti coloro che vogliono provare a non dare per scontato di essere sudditi di una certa politica venduta al miglior offerente.